Giulia sorridente con un orsacchiotto gigante in braccio, tutto attorno ai ritratti, dei suoi interessi, tanti libri di letteratura che amava. Ci sono gli aneddoti più divertenti della sua breve vita, raccontati nel tradizionale papiro di laurea che gli amici hanno voluto appendere lungo la passeggiata del piovego tra i dipartimenti universitari frequentati da Giulia. Il termine caspicchiolacchio che lei utilizzava quando si arrabbiava, le caramelle salva fame che distribuiva a tutti i racconti di gite e avventure scolastiche dall'asilo al liceo. Giulia lo avrebbe letto con qualche buffo travestimento e la corona di alloro. Il lungo piovego durante la settimana è frequentatissimo dagli studenti che passano di qua per raggiungere le aule universitarie. Oggi sabato i dipartimenti sono chiusi ma lo stesso chi passa di qui non può non fermarsi a guardare e a leggere il papiro di Giulia Cecchettin? Non ho grandi parole nel senso che è una cosa bella vederlo almeno per me questa è l'emozione poi altre cose sono interiori non riesco a esplicarle. Ma fa piacere vedere questo papiro? Sì l'ho guardato perché ho visto sta cosa è una bella cosa un bel segnale. C'è un grande dispiacere nel senso che si sta con l'amaro in bocca è una tragedia che non non doveva succedere e non so che dire perché è un qualcosa che ha toccato tutti noi. In tanti si fermano a guardare il papiro pensando a Giulia e al brillante futuro che l'è stato negato. Nel nome di Giulia ci sarà un'aula studio e alcuni premi per studentesse volenterose e capaci. Tre di questi premi sono stati finanziati dall'ordine degli psicologi e delle psicologhe del Veneto per affrontare il tema della violenza di genere. Vogliamo in tutti i modi come ordine fare qualcosa di concreto per lavorare sulla prevenzione della violenza sulle donne e anche di questi premi di laurea per la laurea magistrale in psicologia possono essere un contributo scientifico e culturale a questo scopo.